Presidente, gli agricoltori hanno protestato a Bruxelles contro la crisi del settore del latte. Volevo chiederle, lei pensa che i 500 milioni stanziati dalla Commissione europea siano una risposta sufficiente? Non erano solo i problemi del latte come noto, ma c'erano un insieme di problemi che hanno portato alla convergenza di tantissimi agricoltori a protestare a Bruxelles. Certamente il latte, ma anche la crisi per l'ortofrutto dovuta all'embargo russo, il problema della carne suina. Insomma è un momento di grande difficoltà perché i prezzi in Europa stanno calando e stanno calando in maniera assolutamente non sostenibile per i redditi degli agricoltori. L'avevamo detto a Ogan come Parlamento europeo, ma ci aveva risposto che presto si sarebbe rivisto un andamento in crescita che purtroppo invece continua a non esserci. Noi chiediamo al Commissario di mettere mano a una proposta legislativa seria che dia effettivamente una possibilità di gestire meglio i rischi dovuti a questa volatilità del mercato. Noi riteniamo che questo primo contributo di 500 milioni di euro proposto ieri, innanzitutto vogliamo capire meglio i contorni, da dove vengono questi 500 milioni di euro. Sono soldi degli agricoltori oppure sono soldi che vengono dalla riserva di crisi? Questo è molto importante per esprimere un giudizio. Certamente è un primo passo, ma non assolutamente sufficiente. Ne discuteremo col Commissario Ogan, abbiamo chiesto un intervento suo nella mini plenaria che avremo la settimana prossima. Ci auguriamo che ci possa essere questo dibattito e che coinvolga tutti i deputati europei perché il momento in cui sta passando l'agricoltura europea è un momento molto delicato, richiede interventi congiunturali ma anche strutturali. Presidente, come si può garantire un giusto reddito per gli agricoltori, soprattutto nel settore del latte? Il tema è quello di gestire le crisi, di gestire il rischio. È evidente che la Commissione non può intervenire sostituendosi al mercato, ma dobbiamo trovare meccanismi che compensino gli agricoltori quando abbiamo questi mesi o lunghi mesi di abbassamento di prezzo. E questo è un momento difficile sul quale noi dobbiamo applicarci e applicarci di più. Un po' come hanno fatto anche gli americani con il loro barbill, facendo fare dei sacrifici agli agricoltori sugli aiuti diretti, ma introducendo strumenti nuovi di gestione del rischio. Cioè quando il prezzo va sotto una certa dimensione devono scattare dei fondi nucleolistici, dei sistemi assicurativi che garantiscono la tenuta del reddito in quei mesi in cui il mercato non riesce a farlo. L'ultima cosa sulla questione dei formaggi da latte in polvere. Fra poco scadrà l'ultimatum dell'Unione Europea. Qual è la situazione per l'Italia? L'Italia ha una sua legge, non è una legge europea. Ricordo che gli altri 27 paesi europei non hanno una legge come quella italiana. Ne possiamo dire che tutti i 27 stati membri di Francia e Germania facciano delle porcherie. I stati membri hanno una legge che è europea e che tutti applicano e che giustamente l'Unione Europea vuole avere delle ragioni specifiche sul mantenimento di questa norma nazionale del 1974. Certamente noi stiamo cercando di spiegare alla Commissione che vogliamo questa specificità italiana ma io nel frattempo mi metterei subito al lavoro per sistemi di etichettatura trasparente per far sapere al consumatore italiano, al consumatore europeo, se quello yogurt, quel prodotto natriocasiario è stato fatto con latte fresco, è stato fatto con latte in polvere ricordandoci che ovviamente poi è il consumatore che alla fine decide. Il latte italiano, come sappiamo, per i due terzi va a fare formaggio per cui quasi tutti i formaggi sono a denominazione d'origine quindi non c'è questo problema di latte in polvere. Riguarda quella fetta di produzione di latte che può andare a fare formaggi industriali e sulla quale l'Unione Europea ci chiede un comportamento omogeneo al resto dei paesi europei. Noi vogliamo mantenere questa specificità, prepariamoci. Al prossimo episodio